Risano, attenzione tedesco la palla è in calcio d'angolo credo, vediamo pallo laterale sbaglia l'intervento scartamaglia, attenzione, gravante il giro e poi Costanzo fa una brodezza balzo felino di Costanzo sa evitare questo gol sotto l'incrocio si riscatta dell'errore sul gol, Giuseppe Costanzo con questo balzo ad evitare il gol del raddoppio